Ormai degli uomini e delle donne collaudate che hanno aperto, oltre che vincitrici, vincitori di un concorso, avete dimostrato sull'estate il vostro attaccamento, il vostro lavoro. Noi naturalmente siamo tutti i giorni, io personalmente, posso testimoniare della fondata del vostro e mi fa piacere che facciamo questo atto formale ma significativo oggi. Va bene, noi chiamiamo per primo... Ci piantiamo? No, no, no. Grazie. Io sono un servizio. Santoro Claudio. Santoro! Incoraggiamo la maglia. Io sono scritta a Claudio Santoro, prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, nel suo capo, alla Costituzione e alle leggi dello Stato e da tempi racconti di Sione d'Onore al... Un applauso, un altro applauso! Grazie. 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 Ora, facciamo, alterniamo un decisione... ...ma persona meno seria. ...leggere... ...non le hai brate a memoria, eh. Ah, no. Allora, io ho sottoscritto, Vincenzo Gentile, prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, di adempere scrupolosamente con disciplina ed onore ai doveri dell'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene. Io sono scritta Farace Gaia, prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo capo, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, di adempere scrupolosamente con disciplina e onore ai doveri dell'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene. Io sono scritto Luigi Caccioppoli, prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo capo, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, di adempere scrupolosamente con disciplina d'onore ai doveri dell'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene. Grazie. 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 Testimone. Gadget. Padrino. 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 La segretaria. Che silenzio è? Santoro. Il telefono. Il telefono. Allora. Sì. Grazie. Grazie, segretario. Il comandante. Comandante. Come andate. Ok. Come andate. Come andate. Allora. Diciamo lo stesso. Come andate. 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 un piccolo concerto con Lino Nazionale un piccolo concerto un piccolo concerto un piccolo concerto grazie cacciaputi 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 urrà caccipip cacciaputi ma i viti si possono taggare? cacciaputi 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 vittoria saluta gli amici di Facebook cacciaputi 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 cacciaputi